Sarà ancora la misura del mondo il filo conduttore della diciannovesima edizione di Lector in Fabula e il Festival di Cultura Europea organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno che si terrà a Conversano dal 18 al 24 settembre. Benvenga questa manifestazione, un'idea straordinaria perché la memoria di Giuseppe Di Vagno deve evidentemente servire non solo a ricordarne la figura nel passato ma soprattutto a dare il senso di una visione internazionale del mondo basata sulla pace, sul rispetto dei diritti e soprattutto su un ruolo da parte delle grandi potenze che sia compatibile con il proseguio del cammino dell'umanità. Sette giorni di festival, oltre 140 eventi, 252 tra ospiti e relatori provenienti da diverse parti del mondo e 5 comuni coinvolti, oltre Conversano, anche Bari, Putignano, Noi Cattaro e Rutigliano che serviranno a tradurre quello che accade in Italia. Non mancheranno la letteratura e la poesia, i temi caldi e lo scenario della politica italiana come le riforme della giustizia e quelle sull'autonomia differenziata, il lavoro e il fisco, l'università e la scuola e poi gli anniversari, i 50 anni dalla morte di Tommaso Fiore, i 150 anni dalla nascita di Gaetano Salvemini i 100 anni dalla nascita di Rocco Scotellaro e Italo Calvino. Anche per quest'anno, l'ectore in fabola e coinvolto le scuole del territorio di ogni ordine e grado che potranno godere di un programma pensato per e con le scuole e che nei giorni del festival coinvolgerà 5.000 studenti provenienti da Barletta, Molfetta, Casa Massima, Putignano, Rutigliano, Polignano Ammare, Castellana Grotta e Noci con 80 incontri. Si partirà con un dialogo sulla filosofia, sul corpo, con Francesca Recchia Luciani e Franco Fissetti per passare attraverso un dialogo con Monsignor Vincenzo Paglia e Marco Politi sul tema di noi e gli altri e poi arrivare al tema della democrazia tra spazio e tempo con Jan Sieronca ed Emanuele Felice passando per un dialogo sul potere, sull'uso dell'arma nucleare con Piero Martini e Gigi Riva e concludere sul tema dell'infinito con Franco Farinelli e l'astrofisica Patrizia Carabeo. Sì, l'Ector in Fabola è un evento straordinariamente importante che chiude un po' la nostra estate che è stata un'estate ricca di eventi con notevoli successi. Sono convinto che questo sarà un altro degli eventi assolutamente di punta. Le novità sono che questo, ribadisco, è un festival che dura un anno e che quindi si sviluppa con tantissime iniziative che ci sono già state. Le novità vere sono due e sono una, una scuola di reportage narrativo dedicata ad Alessandro Leo Grande e l'altra è il festival della satira politica che in Italia non esiste. È un festival a cui siamo particolarmente affezionati perché nasce nell'ambito di una fondazione partecipata alla regione, la fondazione Divagno e si inquadra dentro un'offerta culturale senza soluzioni di continuità. Mi viene da pensare che Conversano, che si era candidata a Capitale Italiana della Cultura, sta svolgendo pienamente il suo ruolo.